Dalle 7 di questa mattina sciopero nazionale di 24 ore di infermieri e personale sanitario organizzati sit-in in tutta Italia. In Abruzzo la manifestazione si è svolta a Pescara sotto il palazzo dell'assessorato regionale alla sanità. Una settantina le persone arrivate da tutta la regione. In sintesi vengono chiesti al governo centrale condizioni di lavoro accettabili e al tempo stesso i giusti riconoscimenti professionali ed economici promessi. Ma sentiamo le voci della protesta. Oggi la motivazione principale è di carattere morale perché noi per la pandemia abbiamo speso tanto, abbiamo dato tutto. Il governo ci aveva promesso un riconoscimento che già nella vecchia legge finanziaria erano stati stanziati dei fondi. 335 milioni di euro che ad oggi non ancora vediamo nella busta paga. Quindi chiediamo il perché ancora questi soldi ci vengono dati. Quanto guadagna un infermiere professionale? Allora ad oggi noi mediamente guadagniamo 1.400 euro al mese netti e siamo tra i meno pagati in Europa. Quindi chiedete un adeguamento anche degli stipendi? Assolutamente sì. In atto ad oggi sono il rinnovo del contratto con l'Aran a livello nazionale. Però i fondi che sono stati messi a disposizione sono molto insufficienti. Non vediamo risposte fattive ma solo a parole. In Abruzzo qual è la situazione generale? Allora nella situazione generale attualmente abbiamo parecchi positivi infermieri però siamo in ginocchio perché il personale manca già a priori, cronicamente. Ad oggi con questa pandemia si è evidenzata ancora di più questa problematica e non riusciamo a garantire i turni. Abbiamo rinunciato alle ferre, rinunciamo ai riposi, rinunciamo ai congedi. Non sappiamo più come andare avanti. Cosa ha fatto l'assessorato regionale della sanità e cosa può fare? Ora l'assessorato a noi in passato ci ha dato una premialità covid che abbiamo tanto apprezzato e chiediamo se riesce a fare un ulteriore sforzo la giunta regionale, l'assessorato di rigarantirci questa premialità quindi riattivando anche l'indennità di malattie infettive e trependenze che era stata già erogata. Noi dobbiamo assolutamente considerare questa pandemia come una lezione e speriamo che non cada a vuoto questa disgrazia che ha colpito tutto il mondo. Su un vostro cartello avete scritto non eroi ma professionisti. Oggi come vi sentite? Ma noi ci sentiamo sempre professionisti. Forse la cittadinanza forse ce la sta riconoscendo. Il covid sta insegnando anche questo. L'infermiere comunque vive di emozioni. Vive accanto al paziente che soffre. Abbiamo visto un'infinità di morti e comunque noi viviamo sulla sofferenza. Le emozioni sono tante. Noi quelle ci supportano. Però non bastano poi le emozioni se non sentiamo la vicinanza della classe politica, la vicinanza delle amministrazioni, dalle direzioni generali delle aziende sanitarie. Noi ci aspettiamo non più solo la pacca sulla spalla, la comprensione, ma dei fatti concreti rispetto al piano assunzioni. È fondamentale per vivere.